Ciao a tutti, ciao a tutti, siamo nuovamente qui per un nuovo ed entro salvatissimo video un po' e questa volta su Hotline Majevi Eravamo arrivati alla fine del capitolo del nostro protagonista di Hotline Majevi e abbiamo scoperto che c'era un altro capitolo Sul caro motociclista che avevamo ammazzato dentro al... non mi ricordo che capitolo, avevamo ammazzato, da qualche parte avevamo ammazzato con un credo... Un coso lì, quello per giocare a come si chiama quel gioco, quello per giocare a come si chiama quel gioco, fantastica, è golf, la mazza da golf, quello E niente, adesso andiamo a vedere cosa, come continua, sali sulla tua, pregarima moto, rifugio Ehi, oh è vero, lui ha la mannaia, mi ero completamente dimenticato che lui avesse queste... D'arma Più tre coltelle Ok, mira lui Ui 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 E Uuuh Ok, pronto, pronto Ui, yes No Ui, no Bene, sono al corso troppo tardi Ui Ehi Ehi Ok, vaffaculo Ehi Ae Ae Oae Uo Ok Ho detto Con calma Con calma Con calma Perché ogni tanto mi vedono, ogni tanto no Boom Vai Baffaculo Baffaculo Ehi 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 Allora, non voglio sprecare Proiettili Uuuu Licio Questo lo chiamano a casa mia Oh Oi 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 Vammo riabbazzato Fatte Ok Hehe Ehi Va bene Oh no Con Con calma Con calma Con calma Sangue Non sono un'idea Baffa Baffa Quare Dip Dip Dai Ok Ok Ce la possiamo fare 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 F***** C'è 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 Ehi Vabbè Questo Calma Tranquillo Tranquillo Rex Tranquillo Rex Tranquillo Tranquillo Può andare anche così Ok Ehi 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 Fussacchio Vero qui Non è venuto qui Quello Lo devo per forza Ammazzare con la cosa Vorrei risparmiarmi Questo Se arriva Perché ogni tanto arrivo Ogni tanto non arriva Non si sa che Cazzo Ti Fa Daci Sua Ok Mori Oh Mio Dio Ehi 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 Venga Ehi No Qua ti incostri Perché Cazzo Ti incastri Ok 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 Dai 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 Yes Fussacchio 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 Guardami Idiota C'è qualcosa Che devo sapere E' meglio Che tu risponda Alle mie domande Ok Chi è l'accente Che continui a lasciarmi Dei messaggi E non pensarci Neanche a provare A fregarmi Ok Non esiterò A parte A parte Ci sentevo Ti darò Subito Quella Ti darò Quella Che Savoro A farmi Del pale Non ti sottira Chi c'è dietro Il quitte Basta Usando La Fene Home Fone No Fone Home Per cancellare Le loro tracce Io gli ho solo Aiutati a sistemare Le cose La base Dovrai Introdurti Nel loro sistema Per rintracciarli Mi sono rimasto Nascosto Da quando il lavoro È finito Sembra che abbiano Una qualche sorta Di programma politico Mi hanno spaventato A morte Ho speso Tutti i miei risparmi Per tirare Su questa topaia E tutto quello Che ho Ok Ciao Se vedevo Se vedevo Un altro giorno Un altro giorno Un altro giorno Quando sarai Non lo so E non in caso Fammi vedere che c'ho Oh Yes Ho più E la maschera Di Rick Ok 12 maggio Del 89 Florida È un nuovo messaggio Bip Ciao Sono Mark Di Miami Spedizioni A quanto pare Non hai consegnato Il pacco Di ieri notte Abbiamo un'altra consegna Per te oggi Lascia la sua 107esima Sud-Ovest I nostri clienti Non tutelereranno Ulteriori ritardi Ok Andrò a fare La mia consegna Ma Senza farmela piacere Ok Andrò sulla mia volta Andrò a fare questa consegna Me la farò Borbottando E facendomi dare Una mancia Troppo grande Divertimento Divertimento È vero perché Lui non Può avere L'altra roba Yeah 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 No Perché ogni tanto Fa lo sgozzamento Ogni tanto Fa quell'altra Ehi Stai buono Tu Ehi la Salve Salve Uuuu Mi spiace L'ologi Voi mi avete detto che Tecnicamente Ci dovrebbero essere Da qualche parte Ce dovrebbero essere Dicevo Da qualche parte Ste Ste cosette Viola Che se dovrebbero vedere Salutite voi Perché io non ci ho proprio fatto caso Dai Vabbè Ciao cani De Vieni qui Vieni qui Fatti ammazzare Un tempo di musica Cuccio Tecnicamente Uuuuh Ragazzi Sì Ehi Salve 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 Ce la posso fare 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 dai 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 dai, uu 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 waayi ham waayi ham waayim waayim vieni qui vieni qui uu 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 U yer bebe NOOOOOO cazzo e poi ho solo due coltelli questa è la cosa bella ho solo due beni coltellini Dai E Ma sono sbagliato Cazzo Dai 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 Ok Baby Perché non ha tirato il Boh Non fa niente Ho comunque vinto Hehehe Capitolo completato Yes 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 Cacotoria Cacotoria Bonus Sopra bonus Foto Yeah Un altro A più Ma sono troppo forte Brandon Nuova arma Mitragliatrice MP5 In titolo Maggio Ma il 23 Maggio Ciao C'è qualcuno che sta cagando Oh bene Ma niente E c'è un tossico qui sul divano Fantastico Quindi Tare per questo video on play Spero che questo video on play Vi sia piaciuto Nel qual caso Vedete che metterò un bel mi piace Cortesamente E condividerlo con i vostri amici Perché siete favolosi Fantastici Da quanta questa cosa qui Perché io vi auguro Quindi Ci vediamo al prossimo video on play Spero che è il vostro Raxon 91 Ciao a tutti bro Oh yeah E' 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 C'è un po' Tverso Ciao a tutti Uuh E' 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 Grazie.